Forse si è ancora in tempo per salvare la reggia di Carditello. Dopo una serie di incontri tra le associazioni dei cittadini, il Consorzio di Bonifica del Volturno, la società SGA, il Comune di Sant'Ammaro, la sovraindendenza di Caserta e Benevento e gli assessorati della Regione Campania, è emersa la volontà da parte della Regione di permettere con facilità l'accordo di transazione tra la SGA e il Consorzio di Bonifica, impegnandosi a pagare i debiti che quest'ultimo vantano i confronti dell'amministrazione regionale. Se la Regione sborserà 7 milioni di euro, la faccenda sarà finalmente chiusa, estinguendo un pesante debito e salvando il sito reale di Carditello da inevitabili speculazioni. I fondi, infatti, darebbero la possibilità al Consorzio di raggiungere l'accordo con la SGA, società che ha dichiarato di accettare una cifra intorno ai 10 milioni di euro per saldare definitivamente il credito storico. Si attende, perciò, l'azione da parte dell'onorevole Stefano Caldoro, che ha ora un'enorme responsabilità, dovendo provvedere nei prossimi giorni ad un pagamento piuttosto ingente, per chi, come la Regione Campania, non ha certo una rosea condizione di salute dal punto di vista finanziario. In caso contrario, la reale tenuta situata a Sant'Armaro rischia di finire all'asta giudiziaria, prevista per il 20 ottobre, che sarebbe il peggior finale per la Reggia, che ormai sta a cura a tutti, non solo in Campania. Infatti, anche nei social network si parla di Carditello, in particolare su Facebook, dove sono state aperte diverse pagine per richiamare l'attenzione di chi non conosce la situazione di uno dei monumenti italiani in peggiori condizioni.